Sul monologo che stiamo per ascoltare, perché voi lo sapete qui a Pani e Pesci abbiamo deciso di mettere in scena le ragioni degli altri, le ragioni di tutti, anche quelle più scomode da ascoltare. Adesso è il momento appunto di ascoltare le ragioni di un imprenditore colluso. Collusi, colletti bianchi, imprenditori mafiosi, quanto vi piace giudicare dal calduccio delle vostre casette, lontani i chilometri da qui, lontani dal rischio e dalla paura, venite voi a fare impresa da queste parti. Quando hai una moglie e due figli e ti ammazzano l'amico che gestiva il negozio davanti al tuo, quello con cui prendevi il caffè tutte le mattine, la voglia di fare l'eroe ti passa, ve l'assicuro. E pensare che io ci ho anche provato all'inizio, ve lo giuro. Quando ho lasciato il padrone e ho messo su la mia piccola azienda di costruzioni, puntuali sono arrivate le prime richieste di soldi. Io ci ho provato a resistere, a prendere tempo, ma quando hanno bruciato il mio camion ho capito che non c'era più tanto da scherzare. E poi mi sono trovato nei guai. Una impresa per la quale avevo fatto un lavoro molto importante è fallita prima ancora di pagarmi. E mentre io non avevo più neppure i soldi per pagare gli stipendi, lo Stato, con lo Stato di cui vi riempite tanto la bocca, continuava solo a chiedermi altri soldi, i contributi, l'IVA, le tasse, i rifiuti, cartelle su cartelle. Ovviamente sono andato in banca a chiedere un prestito, ma il direttore mi ha detto che proprio non potevano, che la mia azienda era già in difficoltà. Genio della finanza! Ma secondo te, se non stavo in difficoltà, venivo qui a chiederti i soldi? E allora ho chiesto aiuto ad un amico, che mi ha presentato un amico, e loro, direste voi, una mano me l'hanno data. Certo, dopo qualche mese mi hanno chiesto di assumere un cugino, poi un nipote, e io come facevo a dire di no a chi mi stava aiutando? Ma gli affari hanno cominciato a girare bene. I problemi non sono più stati problemi. Qualsiasi cosa avessi bisogno c'era sempre qualcuno che aveva una soluzione, e sugli appalti la guerra che ci faceva tutti più poveri è finita. Qualcuno mediava. Un giorno lo vincevi tu, un giorno lo vinceva l'altro. E tutti abbiamo lavorato, e guadagnato. E chi mediava, giustamente, voleva il suo. Ma è l'Italia che funziona così. Non lo avete capito o fate finta di non aver capito?